Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus L'oroscopo di mercoledì 23 agosto Ariete, molti di voi potranno fare quello che hanno in mente senza interferenze Le riunioni professionali saranno meno noiose del solito In serata meglio riposare L'amore forse non sarà esaltante ma riesce a darvi tanta sicurezza in più Toro, la compagnia di amici e familiari sarà stimolante Il tempo correrà via veloce Se non avete programmi particolari vi potrete godere una giornata rilassante Se invece avete impegni di lavoro importanti il successo sarà assicurato Gemelli, la giornata trascorrerà lentamente La stanchezza accumulata negli ultimi tempi peserà all'improvviso sulle vostre spalle Non avrete molta voglia di prendere impegni Anche la famiglia vi darà molte preoccupazioni Cancro, sarete di buon umore Potrete organizzare la giornata secondo i vostri desideri Senza il pericolo di dover cambiare programma Molto piacevole la serata In amore avete ancora tante occasioni per realizzare finalmente i vostri sogni Leone, arriva una giornata che vi vedrà molto indaffarati Impegni di varia natura vi terranno sempre in movimento In serata però avrete bisogno di recuperare energie Sotto questa luna potete ottenere dei grandi risultati in ambito finanziario Vergine, sarà una giornata positiva in cui riuscirete a non annoiarvi troppo Anche alle prese con la consueta routine La serata si preannuncia faticosa Non fate tardi In amore si stanno risolvendo molti problemi grazie alla vostra disponibilità Bilancia, siete troppo aggressivi e di conseguenza sempre sul punto di scatenare una lite Anche per questioni banali, in famiglia ci sono problemi che vi preoccupano Non riuscirete mai a trovare il giusto ritmo anche a causa della vostra stanchezza Scorpione, vivrete una giornata molto intensa in cui vi capiterà di perdere il senso del tempo Presi dalle vostre attività preferite La serata dedicatela al partner Non trascurate però il vostro lavoro Capace di regalarvi occasioni davvero uniche Sagittario Le incombenze professionali non saranno così impegnative Troverete il tempo per dedicarvi a qualcosa di piacevole Come una passeggiata o un incontro con gli amici L'umore in serata non sarà dei migliori Avrete voglia di starvene da soli Capricorno Fate attenzione ai rapporti con le persone vicine Cercate di non passare tutto il giorno a lavorare Ma ricordatevi di dedicare del tempo a chi vi vuole bene La luna vi chiede di allargare i vostri orizzonti Dedicandovi ad attività nuove Acquario Non fate troppi programmi perché potrebbero saltare all'ultimo momento Meglio vivere questa giornata così come viene In amore armatevi di pazienza Presto ritroverete lo smalto perduto Per il momento non fate troppi danni Pesci Sarà una giornata tesa in cui già dalla mattina vi sveglierete stanchi E farete fatica a recuperare In serata vi rilasserete molto Grazie all'amore passionale Del resto i duri confronti non fanno per voi E sul lavoro spesso dovrete alzare la voce E con l'oroscopo di oggi è tutto Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna Le stelle di Azus Le stelle di Azus Le stelle di Azus Grazie per la visione